Ciao a tutti, bentornati! Mi trovate struccata oggi perché ho deciso di fare la skin care con voi Non ho mai fatto un video in cui faccio la skin care insieme a voi, mi sembrava anche carino magari fare questa tipologia di video Come vi ho detto mi sono già struccata e quindi per lo struccaggio ho utilizzato il prodotto di Clinique, il Take the Day Off che è questo burro struccante che strucca qualsiasi cosa, scioglie qualsiasi tipo di make up, anche il make up un po' più intenso e un po' più strong Per quanto riguarda invece la detersione ho utilizzato questi due prodotti in combo Il Soy Face Cleanser di Fresh, che lo trovo un detergente adatto a tutte le tipologie di pelli E' delicato ma allo stesso tempo anche molto purificante Sa di cetriolo, infatti la mia migliore amica non sopporta molto la fragranza, soprattutto al mattino Io non ho difficoltà anche al mattino ad utilizzarlo e trovo che sia davvero un valido detergente In combo chiaramente con il Foreo, il Foreo va benissimo con qualsiasi tipo di detergente, chiaramente schiumogelo Passiamo ora agli altri step della skin care Questa sera voglio applicare il perfezionatore cutaneo di Skin First Questo qui è in realtà un tonico esfoliante con il 2% di acido salicilico Quindi è un acido beta-idrossiacido, quindi sono quegli acidi che vanno più in profondità A me piace tantissimo, io l'applico con le mani Chiaramente mani sempre pulite sin da subito, sin da quando fate la detersione Ed è un tonico che mi piace tanto perché avendo all'interno acido salicilico Permette anche di andare più in profondità, quindi di pulire al meglio anche le impurità È adatto per le pelli miste, grasse Magari per le pelli troppo secche non è proprio il prodotto ideale Perché potrebbe andare anche ad essere un po' troppo aggressivo Io lo applico non tutti i giorni, chiaramente massimo due volte a settimana E trovo che sia fantastico, a volte lo applico anche sulle imperfezioni Quindi lo vado a localizzare quando ho dei brufoletti E mi aiuta anche a seccarli un po', non secca la pelle come prodotto Questo c'è da dire, anzi, per niente Però mi rende la pelle anche più levigata, le imperfezioni le minimizza un sacco Mi aiuta anche a ridurre anche un po' i pori, che è il mio cruccio Passo adesso invece all'essenza L'essenza che utilizzo è l'essenza di Etherea Ed è la Lux Light Essence In realtà è l'unica essenza che possiedo Ho in mente altre essenze, tipo quella di Tear Tear, credo Ma ce ne sono tante altre che vorrei provare Voglio prima terminare lei, altrimenti poi l'abbandono Ma in realtà mi piace tanto Perché è un prodotto piacevole proprio da applicare Ha una fragranza piacevolissima Io sono un'amante delle fragranze, sappiatelo Per chi come me è amante delle fragranze nei prodotti di make up, di skin care Mi può capire Ma oltre alla fragranza mi piace anche proprio la consistenza, come mi rilascia la pelle È consigliata chiaramente farla penetrare E l'essenza non fa altro che veicolare poi tutti gli step successivi che andiamo a fare E tra l'altro è anche un'essenza con effetti anche un po' illuminanti Però io dopo la detersione quando applico l'essenza mi sento rinascere Quindi è uno step che mi piace tantissimo fare Il contorno occhi che applico è questo qui di Estée Lauder Ed è il Day Weer Eye In realtà è una linea abbastanza strong Un anti-age Ha questa consistenza molto cremosa Diciamo che io l'alterno di giorno, di sera applico questo qui un po' più corposo Un po' più... come dire... trattamento In realtà non è pesante anche una volta applicato Potrebbe sembrare pesantino anche al tatto Ma in realtà si applica tranquillamente E anche il contorno occhi lo assorbe abbastanza in fretta Non ho un'idea ben precisa di questo contorno occhi Perché lo sto utilizzando da pochi giorni Il claim in realtà mi ha convinta Perché mi urlava quasi Prodotto miracoloso per le borse Chiaramente scherzo Però in teoria dovrebbe aiutare proprio a ridurre e sgonfiare un po' le borse Non so, devo osservarlo ancora un po' Non mi voglio sbilanciare per ora Però insomma nutro aspettative Perché è un prodotto anche non proprio low cost È abbastanza costoso Quindi sconfido in lui Per quanto riguarda il siero Applico questi due prodotti in combo Sto parlando del booster di Skin First Alla niacinamide È il siero di Estée Lauder L'Advanced Night Repair Perché li applico insieme? Innanzitutto perché il booster si può utilizzare sia da solo Ma anche miscelandolo e associandolo a un altro siero La niacinamide è un ingrediente che alla mia pelle piace tantissimo Lo proprio, lo vedo Perché mi aiuta a ridurre i pori A levigare la pelle A donarmi anche un po' La pelle un po' più luminosa E quindi mi piace associarlo E applicarlo in combo con altri sieri Quindi io li miscelo E poi li applico insieme Il siero di Estée Lauder Anche lo sto utilizzando da pochi giorni Quindi anche di lui Non so dirvi molto È un prodotto Molto concentrato Anti-age Dovrebbe fare quasi miracoli Per quanto costa Ho sentito parlare molto bene di questo prodotto Molti dicono sia Cioè faccia la differenza Ripeto Il terzo giorno che lo applico Noto La cosa che noto È una pelle molto più rimpolpata Una volta applicato Lo sento proprio al tatto Questo sì Ho sentito anche dire Ad alcune ragazze Che fa venire fuori anche degli sfoghi Non mi è successo Quindi al momento Non ho avuto problemi con questo prodotto Quindi va benissimo così Poi si asciuga immediatamente Sia il booster che il siero Si asciugano In pochi secondi Passo alla crema Anche questa qui È la prima volta che la applico Ed è la crema di SWR La Hydra Line Leger È una crema leggera Adatta per le pelli miste e grasse E SWR è un marchio Che era da un po' Che volevo provare L'ho trovata Nell'ultima beauty box Di Look Fantastic Tra l'altro Vi confesso Che ho interrotto L'abbonamento Mi sono finalmente decisa Non so Se me ne pentirò Se comunque Cambiero idea Non lo so Ehm Dicevo Questa crema La profumazione è molto buona Buonissima È leggera Si Si assorbe Mi sembra Anche subito All'interno Ha anche il 60% Di acqua Se non erro Leggo qualcosa in più Magari vi può aiutare Anche È una crema Provare anche di giorno Ad applicarla Quindi la inserisco Da oggi Nella mia skin care routine Termino la mia skin care Con il prodotto labbra Di Laneige Che è la maschera La lip sleeping mask E Questa qui La amo L'appico sia la sera Prima di andare a letto Ma anche durante il giorno A mo' di balsamo Ed è emolliente Idratante È un sacco bella Proprio da Da tenere Proprio le labbra Quasi rinascono Con questo prodotto Mi serve Assolutamente Non ho fatto La skin care Completa A mo' di maschera Una skin care Essenziale Neanche essenziale Diciamo Senza alcun trattamento Quindi non ho fatto La maschera Anche perché L'ho fatta ieri Quindi Non voglio appesantire Troppo il viso E Fatemi sapere Se conoscete questi prodotti Io ho Alcuni di questi Come vi ho detto Li sto testando da poco Come il siero Di Estée Lauder E come anche Il contorno occhi Di Estée Lauder E anche la crema È un prodotto Appena inserito Nella mia skin care Per quanto riguarda Il resto Delle cose che vi ho mostrato Sono prodotti Che mi stanno piacendo Tantissimo E che assolutamente Io vi consiglierei Ad occhi chiusi Soprattutto se avete La pelle tipo la mia Quindi Mista Barra grassa Io Niente Vado Vado a nanna E che dirvi Mi raccomando Iscrivetevi al canale E passate anche Dal mio profilo Instagram Se vi va Magari anche Lasciatevi un commento E come sempre Vi mando un bacio E noi ci vediamo presto Ciao Ciao